Quattro auto compattatori su otto fermi in officina per guasto tecnico o per la revisione del mezzo e la raccolta dei rifiuti a Vittoria Scoglitti arranca. L'ultimo guasto si è verificato proprio questa notte ad un mezzo che raccoglieva i rifiuti lungo la Vittoria Scoglitti. Ammette le difficoltà e tenta di porvi il rimedio l'AMIU che in queste ore sta predisponendo l'affitto di nuovi mezzi per la stagione estiva. Comprarli ha un costo proibitivo e al momento serve tamponare anche perché la piattaforma di trasferenza della discarica di Pozzo Bollente è piccola e non c'è modo di accelerare il trasporto dei rifiuti dagli auto compattatori ai mezzi pesanti diretti a Motta Sant'Anastasia. Dove però ci sono altri problemi. L'inizio della stagione estiva ha causato un aumento notevole del traffico lungo la Ragusa Catania portando un ulteriore ritardo alle operazioni di trasporto dei rifiuti. L'AMIU nel frattempo sta rinforzando i servizi di raccolta differenziata per gli elettrodomestici, rifiuti ingombranti, copertone in disuso che possono essere conferiti nelle quattro aree attrezzate di via Giambattista Iacono, via Bari, piazza Berlinguer e piazza Primo Maggio. Restando in tema di ambiente va segnalata invece la lettera aperta inviata da LAV, Lega Ambiente, Fare Verde, Chirat e Lega Difesa del Cane al sindaco Giuseppe Nicosia con la quale le cinque associazioni chiedono al primo cittadino di confermare la delega della protezione animale all'uscente Giuseppe Malignaggi e di aggiungervi quella più generale dell'ambiente, rifiuti compresi. Le associazioni precisano che si tratta solo di un suggerimento ma è curioso il fatto che Malignaggi, mentre riceve la fiducia alle associazioni ambientaliste e animaliste, ancora non ha lavato i panni in casa dell'IDV. Il partito di Di Pietro infatti a livello regionale e provinciale ha ancora deciso a non entrare in nessuna giunta che vede anche la presenza dell'Udc.